Musica Abbiamo conosciuto Elena Stone in occasione di un evento che aveva organizzato Work in Action in Campania e lì è nata l'idea di uno stage formativo per artisti di ogni genere per imparare a sostenere i proibili E così è nato un evento molto bello che abbiamo venuto a Torino due mesi fa, è andata molto bene quindi abbiamo deciso di replicare in diverse città e oggi siamo venuti qui a Milano È stata un'esperienza fantastica e credo che mi abbia aiutato tantissimo E così ti vedi anche in video, ti sei brutta, se non sei brava, se non sei brava, se le smetti, smettila di farlo Con questo showreel professionale che mi varrà dato con le foto professionali sicuramente potrò presentarmi in un modo più consono ai proibili È bellissima, è veramente stupenda Ho trovato dei professionisti molto attenti, molto carini Elena è molto attenta all'addizione, al portamento I consigli di stile e come presentarsi Marco mi sembra una persona geniale, un regista che mi ha dato un profondo senso di sicurezza Mi ha insegnato come vivere il personaggio che si vuole interpretare e staccarsi dalle convenzioni, dagli schemi che abbiamo A relazionarsi con le persone che stanno dietro al banco, quindi sono quelle che ti guarderanno per 5 minuti e di essere molto pronte e molto preparate Ho proprio un piacere a mettersi in gioco, a insegnare quello che sa Dopo Milano, Torino, speriamo di riportarlo a casa, magari a Firenze, la prossima volta sicuramente ci vedremo in Toscana Lo vogliamo vedere alla brace Il brulo che è Ritengo Marco Limberti un regista molto valido e poi è un gran pezzo di fico, altrimenti non avrei partecipato Sia Elena che il regista sono stati molto simpatici e molto professionali, nel senso che sono riusciti a darci molti insegnamenti ma facendoci anche divertire alla fine questa è una cosa importante Beh, andare a lavorare o si va avanti? Si va a lavorare! Vi siete divertiti? Sì! Segnatevi a lavorare!